Presidente Sebastiani, riparte il campionato di Serie B, si torna in campo, la decisione alla fine più logica? La decisione più logica è la decisione che abbiamo spinto anche noi perché comunque sia è l'unico modo per non avere problemi, finendo il campionato chiaramente il campo darà i verdetti e quindi a quel punto non ci sarà possibilità per nessuno di discutere, quindi questa è una cosa importante. L'unico neo di questa storia è comunque che rimane il fatto che si giocherà senza pubblico e chiaramente il calcio senza pubblico non è calcio. Possiamo dire che hanno prevalso le questioni economiche anche su quelle del calcio giocato? Non c'è da meravigliarsi perché il calcio non è solo gioco, il calcio è un'azienda, il calcio è una delle aziende più grosse in Italia, quindi come sono ripartite, come ci si è battuti per far ripartire le aziende, era giusto battersi per far ripartire anche il calcio. Si torna in campo, dieci partite da giocare fino al termine della stagione con il Pescara che sarà chiamato a conquistare sul campo la permanenza, la salvezza. Sì, sì, Pescara dovrà fare le dieci partite come le faranno tutte le altre squadre cercando di fare il meglio possibile. Adesso siamo più vicini alla zona play-out che alla zona play-off, però noi dobbiamo guardare il campionato come se riniziasse da oggi, quindi senza trascurare nulla, cercando di fare il meglio possibile e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Questa lunga pausa, anche ovviamente non voluta, ha portato però qualcosa di buono dal punto di vista tecnico perché rispetto a prima della sosta le grottaglie potrà contare praticamente su tutti i giocatori in organico a Benevento. Il Pescara era ascesso in campo senza 14 titolari, con la Juve Stabia quasi certamente saranno tutti disponibili. Sì, però questa, diciamo la verità, questo periodo ha giovato a tutti, non solo al Pescara perché anche altre squadre avevano infortunati importanti e quindi le hanno potute recuperare. Sicuramente rimane il punto interrogativo per tutti di come staranno i giocatori dopo una sosta così lunga che non è sicuramente una sosta che hanno mai fatto perché anche in estate quando ci si ferma per la fine del campionato poi effettivamente i ragazzi comunque hanno la possibilità di giocare, di allenarsi, di fare tante altre cose. Qui sono stati quasi tre mesi dentro casa e quindi ci sarà da capire come sarà la reazione. Presidente, si torna in campo il 20 giugno a dieci giorni dalla scadenza dei contratti perché i contratti dei giocatori scadono il 30 giugno, la scadenza anche di alcuni prestiti. Che cosa accadrà e qual è la sua proposta da Presidente di una società di calcio? Nel momento in cui la federazione ha prorogato la stagione al 31 agosto credo che anche se poi l'aspetto contrattuale con i giocatori sarà un contratto a parte regolato da altri concetti però mi sembra giusto e corretto far arrivare questi giocatori fino alla fine del campionato, quindi fino alla fine della stagione e poi ricominciare la prossima. Dal punto di vista economico credo che il danno non ci debba essere perché comunque i giocatori nei 24 mesi percepirebbero l'intero contratto che hanno. Forse qualche problema ci sarà per quelli che sono a scadenza ma quelli in prestito credo ci sarà da fare degli accordi trilaterali tra la società, il giocatore e la squadra di provenienza. Parliamo anche un po' della società, nei mesi scorsi si era parlato anche della possibilità che potesse entrare qualche imprenditore nel Pescara per affiancare lei e i suoi attuali soci. Qual è la situazione ad oggi? Per il momento è entrato il signor Covid che ha acquistato parecchie quote, però al di là di questo, in questo momento credo che sia l'ultimo pensiero degli imprenditori entrare nel Pescara. Per quanto riguarda l'eventuale ricapitalizzazione lo vedremo perché chiaramente subiremo delle perdite e quindi se ci sarà bisogno di liquidità per forza di cosa gli attuali soci dovranno mettere mano al portafoglio. Però per il resto al momento è tutto fermo. Non credo sia nell'intenzione di nessuno a Pescara in questo momento. C'è stato qualche abboccamento prima di marzo tra lei e qualche imprenditore interessato a darle una mano ad entrare a collaborare con l'attuale società? Sì, prima del Covid a Pescara era andato un giorno a pesca e avevano abboccato dei pesci, ma niente di più. Se pensate che a Pescara possiamo trovare qualcuno interessato al Pescara, come dice un mio amico, se ti piace la fame fai il signore.